Al Verde di Pordenone è arrivato il momento del musical, quindi di una forma di spettacolo che è stata riscoperta alcuni anni fa nel nostro paese e che sta vivendo un momento particolarmente felice, riscuotendo successo diciamo in tutti i teatri italiani. Quest'anno la nostra scelta è caduta su Aladin che è una bella favola che già di per sé sa incantare i bambini ma anche gli adulti e che lo farà a maggior ragione in questa veste spettacolare. Nella precedente stagione Aladin in questo spettacolo è stato visto da più di 130.000 spettatori in Italia e adesso è tornato appunto nei più importanti teatri italiani e da noi sarà da venerdì 20 gennaio a domenica 22 gennaio. Con Aladin entreremo nelle atmosfere incantate delle mille e una notte. Lì inebriati dai profumi d'oriente incontreremo vari personaggi. Innanzitutto lui è questo scugnizzo intraprendente e coraggioso che è scapestrato però allo stesso tempo che ha la ricerca del suo posto nel mondo e che poi è il protagonista di uno dei più celebri racconti delle mille e una notte che è il racconto Aladino e la lampada meravigliosa. Il ruolo di Aladin è affidato qui a Flavio Montrucchio che ha già ottenuto grande successo con il musical Grease e adesso torna a calcare il palcoscenico del musical affiancato da un attore molto simpatico e molto noto al pubblico italiano che è Stefano Masciarelli che qui sfodera tutte le sue doti irresistibili nei panni del magico ma anche molto molto divertente genio della lampada. Con loro e con tutti gli altri personaggi ci immergeremo nei tesori della caverna delle meraviglie in questa Baghdad fatata incantata incontreremo la principessa a Jasmine, il perfido Gran Vizir Jafar e tutto questo poi è accompagnato dalle musiche dei Pooh che sono un altro grande punto di forza di questo spettacolo che non a caso è stato scritto da un ex componente dei Pooh che è Stefano Dorazio. È un artista che peraltro conosce perfettamente la macchina musicale e teatrale. Io direi quindi che con Aladdin per un paio d'ore sogneremo che l'amore può fermare il tempo, che il male può essere sconfitto anche da un cuore semplice e umile e che quindi il lieto fine magari a volte è ancora possibile.